Ciao, sono Lucia Tiziani, mi sono laureata all'Università degli Studi dell'Insubria in Scienze della Comunicazione e oggi lavoro in un'azienda aeronautica. Ho scelto questa università perché prevede discipline come la filosofia, la letteratura, la storia, che ritengo indispensabile per la formazione etica nel mondo della comunicazione. Per diventare un grande professionista è fondamentale essere formati in modo adeguato. Durante il nostro percorso abbiamo avuto la possibilità di incontrare eccellenze che ci hanno trasferito il loro sapere con grande passione. L'Università degli Studi dell'Insubria inoltre organizza spesso eventi con personalità del mondo del giornalismo, dell'editoria, della televisione, dello sport, tutte esperienze imprescindibili per chi come noi vuole farsi strada nel mondo della comunicazione.